Ciao, io sono Tommaso e oggi impariamo a fare questo con Da Vinci Resolve La pillola di Da Vinci Resolve di oggi nasce da un utente che mi ha scritto, si chiama Roccino e mi ha chiesto appunto di vedere come funziona lo zoom, il pan to zoom, il tilt to zoom quindi gli spostamenti della camera quando invece la camera rimane ferma così com'è ma abbiamo la possibilità di spostarci da una parte all'altra dello schermo grazie a uno zoom dedicato soprattutto ad una cosa principale Roccino quindi questa è tutta per te perché dobbiamo capire che la prima cosa da fare è avere una buona risoluzione dell'immagine non possiamo pensare di andare a riprendere a 720p per esempio per poi andare a croppare l'immagine ulteriormente perché il problema principale dei crop dell'immagine è che sgranano noi adesso qui stiamo filmando a 1080p le immagini che andremo a croppare in questo caso sono state filmate in 2.7 e 4k perché avremo la possibilità di andare a croppare quindi a ritagliare i bordi e gli angoli per avvicinarci all'immagine ma senza andare a sgranare e a rovinare l'immagine tanto la qualità media dei video che guardiamo online si aggira intorno ai 1080p quindi un full hd anche se andassimo fino all'hd quindi a 720p non avremo problemi però state in occhio a non croppare troppo perché poi tenderete ad avere questo effetto grana che fa veramente schifo quindi andiamo su da vinci e cominciamo a lavorare eccoci qui siamo come al solito nella nostra timeline abbiamo qualche immagine statica e qualche immagine meno statica prendiamo ad esempio questa immagine qua da qui a qui di modo che abbiamo qualcosa di fermo e stabile già che ci siamo ma se non lo avete visto ci darete un'occhiata qui perché c'è il tutorial per la stabilizzazione dell'immagine andiamo a stabilizzare questa immagine di modo che andiamo a lavorare in maniera più pulita ok perfetto ora che abbiamo la nostra immagine più stabilizzata voglio andare a fare stacchiamo questo che così non andiamo a fare della confusione andiamo a zoomare in direzione del ponte come facciamo a zoomare in direzione del ponte? dovremmo utilizzare dei keyframes magari faremo anche una puntata dedicata solo ai keyframes se vi interessa scrivetemelo qui sotto nei commenti di modo che io possa avere qualche idea nuova per creare nuovi tutorial ricordatevi che è grazie a voi che riesco a fare tutti questi tutorial perché se non mi fate delle domande io non so che cosa fare effettivamente ogni tanto faccio dei corsi tra l'altro c'è il corso completo che è sul mio sito www.tomasocodolo.com lo trovate qui sotto in descrizione dove vi do 4 ore di corso dedicate solo ed esclusivamente a DaVinci Resolve allora per andare a zoomare su un'immagine c'è la necessità di fare una trasformazione dell'immagine dove si effettuano le trasformazioni delle immagini? si effettuano attraverso il pannello inspector che abbiamo qui a fianco ovviamente dobbiamo avere la nostra clip selezionata andiamo sul pannello inspector e abbiamo le possibilità di gestire lo zoom, la position, l'angle, anchor point, pitch, yo, flip eccetera eccetera a noi interessa semplicemente andare ad avvicinarci in questo momento quindi la cosa che andremo a fare una volta selezionata la clip è o lavorare direttamente sulla sezione transform qui oppure molto più facilmente da un punto di vista grafico andiamo qui sotto e clicchiamo questo pulsante dove troviamo transform, crop, dynamic zoom, open effects overlay e annotations quelli che ci interessano per oggi sono transform e dynamic zoom prendiamo il transform e vedete che mi si crea questa griglietta attorno alla mia clip che posso andare a ingrandire o a rimpicciolire vedete che mentre faccio questo movimento qui a fianco mi aumentano e mi diminuiscono questi due numeri che sono linkati tramite questo blocco perché zoom del asse x e asse y rimangono collegati posso anche eventualmente prenderli da qui vedete che si crea una sorta di freccetta che guarda a destra e a sinistra se io prendo la freccetta e mi sposto verso sinistra andrò a rimpicciolire l'immagine verso destra andrò ad ingrandirla se faccio doppio clic sulla parola zoom vado a normalizzare quindi a far tornare tutto al 100% facciamo un esempio ovviamente se io faccio lo zoom sul ponte e poi dal play lui mi è rimasto con lo zoom solo ed esclusivamente sul ponte non mi interessa fare questo se volessi controllare anche la quantità di zoom vedete che è qui in lato però volessi rimpicciolirlo posso utilizzare o queste percentuali ok quindi mi sposto al 50% o al 25% per vederle oppure posso con le due dita sul trackpad spostarmi per spostarlo oppure con la rotellina del mouse cliccandoci sopra posso andare a zoomare oppure alt e le due dita sul magic mouse o sul trackpad se ce l'avete se vogliamo ritornare al fit to zoom basta appiglare fit e entrerà calcolate che quello che ho fatto quindi questo movimento qui non sta ingrandendo o diminuendo gli zoom vedete cioè io torno a 0 adesso e faccio così vedete che non ingrandisce e diminuisce è solo uno zoom di visualizzazione per ingrandire e diminuire devo prendere l'angolo vedete e lo zoom sulla destra aumenta e diminuisce chiaro? ok ritorniamo al 100% e decidiamo quale zoom andare a fare utilizzeremo dei keyframes quindi qui a fianco abbiamo questi bei diamantini che ci permettono di fare delle zoomate e andiamo a cliccare il primo keyframe che è l'iniziale e andiamo a portarci che ne so a metà dell'immagine dove vogliamo a metà della clip dove vogliamo arrivare a uno zoom sul ponte quindi prendo il mio angolo guardate che cosa succede a questo pulsante qua quando mi sposto avete visto che è diventato arancione perché sta registrando il mio movimento adesso ho fatto uno zoom posso vedere anche di quanto l'ho fatto lo zoom andando ad abbassarmi a diminuire le dimensioni vedete e torno al 100% al fit to zoom e guardate che cosa è successo tolgo magari la mia griglietta così non mi da noia e ecco qui il mio zoom arrivare nel punto che mi interessa se volessi farlo anche unendo magari uno spostamento laterale la cosa che potrei andare a fare è ad esempio che ne so voglio andare a puntare qui questa finestra quindi non il ponte dove sono arrivato ma la finestra innanzitutto vado a togliere i miei keyframes andando qui e resettando con questo pulsante e poi voglio andare su quella finestra abbiamo detto quindi il primo keyframe non lo darò solo qui ma lo darò anche nel position oppure se vogliamo essere più comodi possiamo darlo direttamente a tutto il transform di modo che qualsiasi cosa andremo a fare verrà registrata e mi sposto sempre a metà della mia clip attivo il mio transform e zoom 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 e mi sposto verso la mia finestra avete visto che ha creato una sorta di linea è la linea di congiunzione che ci permetterà di poi andare a creare lo spostamento vero e proprio quindi questo pan questo spostamento verso la nostra finestra andiamo a dare un'occhiata che cosa ha fatto togliamo il nostro transform e andiamo play eccoci qua ovviamente più lunga sarà la clip più lento verrà se io volessi ad esempio per esettare tutto gli do il mio primo keyframe qui il mio ultimo glielo do alla fine del clip e gli dico zoom espostati avremo una cosa molto più lenta dipende da che cosa vogliamo andare a fare quindi questo è il trucco per andare a fare il zoom e appunto gli spostamenti all'interno di immagini che devono essere comunque di una risoluzione abbastanza valida per poter andare a lavorarle guardate che cosa succede se facessi uno zoom superando diciamo il massimo della capacità di zoom quindi vado ad esagerare vedete che inizia a vedere completamente sgranato quindi avrò il mio zoom lo metto magari a schermo intero avrò il mio zoom però vedete che la qualità dell'immagine non è più valida che è completamente sgranata e non è più fruibile ottimo abbiamo terminato anche questa pillola di da vinci resolve spero che vi sia stata utile ricordatevi di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto e di accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutte le uscite dei nuovi video ricordatevi che ci vediamo il martedì con la diretta qui su youtube il mercoledì con le videoproduzioni e il giovedì con le pillole di da vinci resolve ricordatevi che c'è anche un corso completo su da vinci resolve all'interno del mio sito internet lo trovate qui sotto in descrizione a me non resta che salutarvi e dirvi che ci vediamo con il prossimo video ciao